E' stato consegnato un nuovo mezzo a Peschici essenziale per le operazioni di pellustrazione e controllo del territorio dopo che il 10 dicembre scorso un attentato incendiario aveva distrutto due mezzi in uso al comando forestale di Peschici. Grazie alle istituzioni che hanno risolto questo problema pratico conseguente a quello che è sembrato sin da subito un vile attentato intimidatorio, così l'onorevole Giandonato La Salandra. La Salandra lo scorso dicembre aveva portato a Peschici il messaggio di vicinanza del governo che gli aveva consegnato il ministro all'agricoltura Lollobrigida qualche giorno dopo l'incendio sottolineando la necessità di uomini e mezzi per contrastare l'illegalità. Il parco del Gergano può contare infatti appena su 39 carabinieri divisi in otto nuclei governati da regole di accasermamento che spesso mal si coniugano con le diverse esigenze geomorfologiche del parco stesso e comunque insufficienti ad un adeguato controllo. Grazie a tutti.